Buongiorno. Oh buongiorno signori. Allora qui ho il conto della stanza 69. Sì, sì, sì. C'è scritto 400 euro al giorno. Sì. Una stanza 400 euro al giorno. Ma stiamo scherzando? Guardi, allora nei 400 euro sono inclusi anche i pasti. I pasti. Ma non è mica abbiamo mangiato eh. I pasti, cara signora. Però comunque erano sempre a vostra disposizione. Sì. Allora, visto che le cose stanno così, lei a me deve dare 500 euro. Io? 500 euro. Sì. Perché? Perché lei ha fatto l'amor con mia moglie. Io l'amor con sua moglie. Ma sta scherzando? No. Ma se io non l'ho manco sfiorata sua moglie. Però è alla sua disposizione. Ciao, Monica. Vai, va. Ecco. E poi ci do è... E poi ci do è... E poi ci do è...